Il Covid-19 ha messo in ginocchio il mondo dell'arte e della musica. Alessandra Savino, assieme alla sua squadra di Asteria Space, ha lanciato l'iniziativa Pietanze d'arte a domicilio. Pietanze d'arte a domicilio è un'iniziativa che prende spunto da un progetto molto interessante, nato per mano di Ippolito Chiarello, che è un artista, un attore salentino, che durante il periodo del lockdown ha ideato un progetto di teatro delivery. Aderendo a questa sua originale iniziativa, noi di Asteria Space abbiamo proposto un menu di Pietanze d'arte a domicilio, ovvero il proprio servizio delivery di arte, quindi di musica, teatro e danza. Ogni venerdì dal 19 febbraio fino al 2 aprile, musicisti, attori e ballerini si esibiranno a domicilio nelle abitazioni degli spettatori paganti. Un modo per contrastare il digiuno artistico che ha caratterizzato il 2020 e speriamo solo una parte del 2021. L'unico modo per rimettere in moto i nostri artisti e farli nuovamente esibire dal vivo, quindi non più soltanto attraverso lo streaming, era proprio questo, quello di portarli direttamente sotto casa delle persone, ovviamente in spazi aperti, quindi terrazzi, piazzette comunque circoscritte, private, che consentono agli abitanti, quindi a chi risiede in un determinato domicilio, di assistere ad una piccola performance teatrale, di musica o di danza, sempre mantenendo le distanze quindi in perfetta sicurezza. Sono otto gli artisti pugliesi che sono entrati a far parte delle USCA, le unità speciali di continuità artistica di Ippolito Chiarello, che dal 4 dicembre sta facendo rivivere il teatro, consegnando personalmente il proprio talento a chi ama l'arte. Sicuramente un messaggio è quello di non arrendersi ma di reinventarsi sempre, sia per tutti gli artisti che magari possono essere demoralizzati in questo momento, ma anche per tutti gli operatori culturali. Bisogna reagire, in qualche modo reinventarsi e attendere che tutto torni nel mondo dell'arte a risplendere come prima.